questa sera parliamo di un artista eccentrica come centrico il titolo del libro che ce la presenta sono innamorato di pippa bacca chiedimi perché pippa bacca era un artista una performer che è morta il 2008 durante una sua performance giulia marello adesso ce lo racconterà molto legata pippa bacca che pure non ha mai conosciuto la performance di pippa bacca partiva da milano in autostop vestita da sposa e sarebbe dovuto arrivare a gerusalemme si è fermata in turchia e voleva dare un messaggio di pace e di amicizia tra i popoli la vediamo in copertina tra l'altro è pippa bacca no il cui vero nome era invece un nome aristocratico giuseppina pasqualino di marineo tra l'altro nipote di piero manzoni il l'artista degli anni 60 dell'avanguardia che confezionò la famosa merda d'artista possiamo dirlo non ha fatto solo questo ma è rimasto famoso popolarmente per questo ecco e e pippa aveva questo sogno di portare un messaggio di pace invece è finita strangolata e violentata in turchia sì e lei voleva portare un messaggio di pace e andava a omaggiare pensa le ostetriche proprio perché voleva omaggiare la vita nei paesi attraversati da guerre quindi è una storia attualissima perché adesso la questione della pace è più viva ferita che mai no assolutamente sì purtroppo quindi il suo intento era giusto sono innamorato di pippa bacca chiedimi perché il libro di giulia morello pubblicato da castelvecchi